Da settembre la Mavarelli Pasquale di Umbertide in piazza Carlo Marx è pronta a ricevere gli studenti del plesso di Perantonio, mettendo loro a disposizione aule e consone al percorso intrapreso, laboratori d'attività. Continuerà dunque il trasferimento gratuito in autobus dai CVA della frazione verso la scuola del capoluogo. Non solo, ma ci sarà anche un operatore addetto all'assistenza che accompagnerà i ragazzi fino alla fermata dell'autobus. Intanto, dal 1 al 30 agosto, il Comune di Umbertide riaprirà la piattaforma per le iscrizioni a mense e trasporti. Nel frattempo è stato anche confermato l'impegno per l'imminente restituzione alle attività sportive ed educative della palestra, occupata fino al 9 luglio come centro raccolta ed assistenza sfollati. La decisione è arrivata in queste ore, dopo una serie di incontri tra i gestori del trasporto pubblico, l'amministrazione comunale, la dirigente scolastica e i rappresentanti dei genitori. L'incontro con le famiglie interessate aveva inizialmente preso in considerazione il ricorso a moduli abitativa d'uso scolastico da montare nel parco della scuola di infanzia di Perantonio, diventata anche sede della primaria. Se da una parte i costi per il noleggio annuale dei tre moduli gravosi ma erano giudicati sostenibili dall'ente locale, dall'altra questa soluzione non aveva trovato il punto d'incontro con le scelte delle dirigenze scolastiche. La seconda ipotesi era stata quella di separare le tre classi lasciando la futura prima all'interno dell'attuale polo infanzia primaria, in continuità con il grado di scuola. A questo punto la seconda e la terza classe avrebbero proseguito il percorso dell'anno passato alla Mavarelli Pascoli, idea ritenuta pericolosa per la riduzione di spazi disponibili per l'infanzia e la primaria. Da qui l'ultima ipotesi, ovvero quella di continuare a portare i ragazzi della scuola di Perantonio in quella di Umbertide.